Siamo con Luca Crecco, il primo rinforzo arrivato alla corte di Hernan Crespo, innanzitutto benvenuto Luca, abbiamo parlato prima in conferenza stampa della tua prima parte di stagione con solo le 10 presenze a Lanciano, immagino che tu venga qui all'ombra della Ghirlandina con tanta voglia di riscatto. Sì, grazie a tutti, benvenuto, vengo qui per aiutare sicuramente la squadra e per far bene per me personale, per riscattarmi in questi sei mesi che ho fatto a Lanciano che non sono stati dei migliori. Sono contento della chiamata del Modena perché è una piazza sicuramente importante e spero di far bene per questa squadra. Abbiamo sempre detto prima in conferenza stampa il tuo ruolo, nasci come mezz'ala mancina ma puoi ricoprire tutti i ruoli della corsia di sinistra, addirittura anche quello di terzino ma anche di esterno d'attacco, è così? Sì, sì, è così, io nasco come mezz'ala sinistra ma posso fare anche l'alto a sinistra o il terzino o il quinto posso fare diciamo tutta la corsia di sinistra. La Serie B l'hai conosciuta l'anno scorso con la maglia della Ternana, quest'anno con il Lanciano, ora la vivi con il Modena. Che campionato è la Serie B e dove può arrivare la squadra giallo-blu? Allora, il campionato della Serie B è un campionato veramente importante dove c'è tanta fisicità, forza, però è un bellissimo campionato e il Modena secondo me può fare grande cose perché è una grande squadra e sono sicuro che faremo bene. Sei già stato vicino al Prodo al Modena la scorsa estate, poi alla fine sei andato a Lanciano, vuoi spiegarci come mai questo matrimonio è ritardato rispetto a quello che doveva essere la scorsa estate? Sì, dovevo venire qui perché la piazza sicuramente era una piazza molto più importante del Lanciano, io ero contento però ci sono state delle cose dove mi erano state determinate cose da parte del Lanciano e quindi ho scelto Lanciano. Però adesso sono convinto e contento che qui faremo bene e sono a disposizione del mister per affrontare questi semestri.